Giusto per autorizzare quello che dicevo, che io non posso rappresentarmi in uno di quei bamboccioni, quei ragazzi, quei mammoni, diciamo, che... Per carità! Che sono legati... No, vuoi, come dire, accennare? No, 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 quello che dici tu è giusto. Però sei da vent'anni fuori casa e io penso a pagare il bollo della macchina. Perché non sai neanche mai quando scada, sei in palle con la macchina e devo chiamare l'autogru per farla portare a rinnessa. Vabbè, ma succede giusto perché... Devo pagare le tasse per te. Ma quelle si devono pagare. Devo guardare le camicie che siano tutte tirate. No, vabbè, ma non diciamo queste cose. Vabbè, vabbè, insomma. Ragazze! Vabbè, insomma, comunque... Sono sui generis, però sono ancora legato alla famiglia. Sì, 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 sì. Effettivamente sì. Eh, veramente sì. Allora, proprio per questo motivo e chiudere questo bellissimo quadretto familiare, come sempre mia madre ci tiene perché lei è una poetessa, oltre che essere una scrittice di testi e di canzoni inglesi... Che continua a dire, a dire, a dire, fino alla nausea, ma un bel giorno qualcuno ci capirà. Ci capirà, ma è molto lontano quel giorno. Dicevo... No, non in questo... No, 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 perché stasera non in questa sede, ma... Non in questa sede mia madre vuol dedicare, credo a tutti i figli d'Italia, ma credo più che altro a te... Sì, sì, esatto. Ok, allora, qualcuno ha la mia poesia, per favore? Ah, grazie. Oh, su un piatto d'argento, grazie. Troppo buoni, grazie. Allora, facciamo mettere la musica. Sì, prego, un po' di musica, regia. Abbassiamo le luci, leggermente. Prego, eh no, non posso. Ok. No, le luci danno fastidio. Grazie, molto gentili. Questa è una poesia che ho dedicato a Piero quando ha compiuto vent'anni. e dice Oggi per la prima volta... Ma è come rovinare... No, 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 è meglio fargliela fare, è meglio fargliela fare, se no non va più via. No, è meglio fargliela fare. Oh, carazzo, durissima, eh. Questo è come rovinare l'amore di una madre. Va bene, allora, va bene. Adesso la facciamo, la facciamo. Prego dalla regia, prego dalla regia. A Piero vent'anni dopo. Oggi per la prima volta improvvisamente ti trovo diverso, cambiato, cresciuto, uomo. Va, figlio adorato. Segui il tuo destino. Il mio compito di madre si interrompe qui, ma il mio amore è silenzioso. Ti seguirà ovunque. Un groppo stringe la mia gola. Piango. Ma è un attimo. Sono felice. Sono la madre di un uomo.